Bene bene, salve a tutti ragazzi, benvenuti a una piccola lista di mazzi rogue o comunque mazzi di cui nessuno sta parlando in questo periodo che penso che abbiano un buon match up contro Trickstar Sky Striker che vedrete che l'idrito di rovescio, sia che ci sia una banlist d'emergenza oppure no è il mazzo che ci troveremo piantato in mezzo alle palle per ancora tanti mesi da qui a venire, purtroppo la metà dell'elink che vi farò in questo video sarà mazzi che vogliono andare per primi l'altra metà mazzi che vogliono andare per secondi, quindi la maggior parte delle volte ti capare l'ordine con cui ve li dico non rispecchia l'ordine di potenza di vari deck eccetera quindi non cominciamo ad andare in paranoia vi dico già che ovviamente da questo elink sono esclusi tutti i deck che già vedete in giro nei tornei quindi non c'è BC, non c'è Spiral Nightmare, non c'è Altergeist e compagnie insomma sono questi di cui parlo oggi sono che ci vedono poco o non ci vedono per niente quindi cominciamo allora il primo deck di cui parliamo è eroe, eroe relativamente antimita e sono in questa lista di mazzi che se la possono cavare bene contro Sky Strikers vanno primi perché con la bilge giusta il deck diciamo che su 10 mani 7 volte su 10 è capace di calarti benissimo un Isolde che va a puntare Natura e Bestia e va a puntare un Dark Glow cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo Macrocosmo con i piedi abbiamo la possibilità di negare tutte le magie dell'avversario e quindi ovviamente contro Trickster Sky Strikers che è una costaglia di Entrap, magie e mostri che detta proprio dritta com'è presi da soli sono abbastanza penosi non riescono a risolverti un abort del genere e va a perdere alla lunga direi che probabilmente è uno di quelli che se la cava meglio partendo per primo contro il mazzo Tanuki che ho portato anche sul canale qualche mese fa ovviamente andrebbe fatto qualche aggiustamento ma il mazzo alla fine del credo è sempre quello e qui nella lista per esempio si è fatto che forse il deck in questo gioco più consistente nel tirare fuori Natura e Bestia con qualunque mano hai di primo turno è veramente impossibile che non riesci a fare Natura e Bestia la maggior parte delle volte basta si diceva la partita con Natura e Bestia perché ripeto non ha niente con cui andarci sopra neanche se va nel reparto di Entra non c'è niente che abbia 2100 il terzo mazzo di cui parliamo è Barn sia variante Chain Barn sia variante Barn normale è un mazzo che obiettivamente può soltanto cavarsela bene contro Trista Skystryker perché il mazzo fa Chain infinite volendo non lendo se ti va a spaccare Backflow non te ne frega niente se ti prova di rubare mostri non hai quasi nulla da dargli alla peggio capita delle volte che magari butti giù un Battle Fader o qualche altro mostro strano che anche se se lo prende non va assolutamente a cambiare la partita le Chain ce le builda da solo indirettamente con gli effetti di Candina, Lycoris e compagnia l'unica cosa un po' ignorante nel matchup è il rischio che ti vada a colpire con l'atterrino delle Trickster una carta che ti serve dietro che hai coperta quello è un pericolo abbastanza grosso più avanti quando uscirà il nuovo Time Lord Zio Michele dal nuovo Battle of Life insomma il set che arriva a fine giugno penso che il mazzo avrà un ottimissimo matchup contro questo deck anche perché quando attacca Zio Michele di mezzo ai life points e quindi cavare 4000 life points invece di 8000 è veramente una puttanata altro mazzo sempre di quelli della lista che vogliono andare primi è il Counter Fairy ma specificatamente il Counter Fairy buildato molto attorno a Cursed Seer che se non sapete cosa fa il sigilo maledetto metti caso l'avversario mi attiva Engage attivo sigilo maledetto, scarpa una magia giocarmi Engage perché tirata su Engage o tirata su l'atterrino delle Trickster è finita la partita in più anche se non becchiamo Cursed Seer abbiamo almeno almeno penso 2 o 3 negati tranquillamente di primo turno che poi li dobbiamo pagare life points o meno un altro paio di maniche secondo la mano che abbiamo però il deck con la certezza che va prima sicuramente un ottimo matchup fine l'ultimo mazzo di cui andiamo a parlare nei deck che possono essere carini partendo per primi è i 6 Samurai 6 Samurai che ha fatto qualche risultato in giro nei tornei ha fatto delle top 32 ha fatto delle top 64 in America ci sono tante build che sono abbastanza rivoluzionari si basano molto sull'interazione dei due vecchi 6 Samurai quello rosso e quello blu di cui adesso mi sfugano i nomi mi sembra che si chiamino Shinai Mizuomo ma non sono sicuro e giocano l'engine delle spade di bambù e compagnia l'unico problema che ha il mazzo è la consistenza e il fatto che c'è ancora un portale dei 6 a 1 parliamo quindi di mazze che possono essere ottimi per ottica per l'avversario o comunque buoni andando secondi il primo che viene in mente è Ingranaggio Antico Ingranaggio Antico che è un deck potentissimo è un deck che ha un sacco di risorse può evitare che i mazzi vengano targettati evochi cose che sono immuni agli effetti quando attacchi non ti possono attivare mirror o altre robe ignoranti la build del mazzo se la volete dire più o meno un'idea di come si può andare a costruire il deck che c'è sul canale l'unico problema dell'ingranaggio Antico è che ha un paio di carte che costano troppo per i miei gusti un prezzo assolutamente esagerato le fusion costa 20 euro l'una non si sa perché sinceramente però penso che il deck possa dire ancora la sua penso che abbia un sacco di giocate forti e che mette in crisi abbastanza Trickster Skystryker il secondo mazzo di cui parliamo è Kubik Kubik che è sempre forte ogni meta che c'è Kubik è sempre forte ma nessuno si vuole mai prendere il rischio di giocarlo perché alla fine il mazzo è un rischio a tutto fra poco arriverà la nuova build la portano sul canale nei prossimi giorni quindi se siete curiosi date un'occhiata ai video che posto per chi non sa come funziona il mazzo si base sull'andare a raccattare prima possibile il 3000 grossissimo del mazzo calarlo e quando entra immune a tutti i mostri che hanno 3000 o meno attacco di 3000 ha gli effetti quindi neanche Borrelod gli può dire niente non possono potertelo con l'effetto di Borrelod si attacca sul mostro può attaccare una seconda volta e in end phase entrambi i giocatori prendono 3000 quindi il 70% dell'odio che lo butti e riesce ad attaccare non succede niente hai vinto l'unico problema del cubic è la consistenza è la consistenza è un mazzo che si basa tantissimo sul vedere le carte che ti servono subito di prima mano se no esplodi terzo mazzo di cui parliamo è il Chaos Max Chaos Max che potreste pensare che mi sono fumato qualche cosa prima di dire che è una variante qualunque di Blue Eyes è leggermente utilizzabile nel meta invece non è così perché Chaos Max è comunque immune al target e la carta più problematica per voler provare di uticappare Sky Striker in linea di massima è Vedovancora Vedovancora che targetta nega gli effetti addirittura se c'è 3 magie ti fotte il mostro Chaos Max non può essere targettato e quindi un allegro il dito medio e si va a uticappare di Cattiviria penso che in ogni caso se siete giocatori di Blue Eyes e ce l'avete in giro vi conviene comunque montarvi una versione con Chaos Max e giocare quella rispetto a che giocare Blue Eyes classico perché almeno avete una possibilità di chiudere le partite sostanzialmente gratis infine ultimo mazzo dei Going Second è Furire Furire però è una variante particolare di Furire che vi porterò anche questa nei prossimi giorni sul canale ma la posso anche anticipare insomma ci sto lavorando da un po' sopra che è Furire mischiato con un engine che è in giro da un po' di tempo e non vi spoilerò nient'altro però il mazzo funziona abbastanza bene ha qualche problemino perché delle volte vorresti una seconda normal per far perdere entrambi gli effetti dei due engine però quando entra è veramente difficile da fermare hai 228 negate perché sono due archetype molto bastardi mischiati insieme e ha un ottimo potenziale per OTK l'unico problema di Furire come ho già detto anche in altri video se avete già seguito i vecchi video che ho postato sul canale è che Furire è molto suscettibile ai solenni sulla prima normal che vai a fare e ha un Veiler sul primo Furire che vai a calare in una situazione normale perché se si becca un Veiler e viene negato puoi anche alzarti dal tavolo o anche una Transience altro mazzo con un ottimo potenziale da OTK e CyberDrago CyberDrago che ha ottimo potenziale sia che va primo sia che va secondo perché riesce a calarti Infinity con una consistenza incredibile e Infinity è veramente una carta molto problematica da levare dal campo per qualunque mazzo non soltanto per Trickstar ma anche per altre cose insomma e più avanti arriverà una wave di supporto aggiuntiva anche per lui quindi puoi soltanto andare in una posizione migliore rispetto a dove ora nei prossimi mesi direi quindi di nominare qualche mazzo in menzione d'onore tanto per ricordarvi della loro esistenza menzione d'onore ovviamente per l'Antimita con Border altro mazzo che è sul canale però l'hanno portato ultimamente i tornei quindi non ne parlo in questo video perché sembra che qualcuno si sia accorto che il deck è veramente forte ha un sacco di potenziale quando va per prima però ricordatevi che c'è anche lui infine ultime due menzioni d'onore ultime due menzioni d'onore vanno a Wanderet ed FA Wanderet ed FA che al momento non possono neanche tenere un cerino in mano contro Trickstar Skystriker ma siccome che la Konami ci ha ormai abituato che ogni volta che esce un set fa uscire supporti per Wanderet ed FA io spero che col prossimo set in uscita a luglio escano delle carte che ci permettano di giocare almeno uno dei due Archetype a full power quindi avere un mazzo che può almeno dire qualche cosa al deck da metà di adesso è possibile? Non lo so sinceramente per i Wanderet la vedo molto difficile perché la Konami sta cazziando ogni wave di supporto ma per FA è abbastanza reale come possibilità che arrivi una carta interessante che lo renda veramente veramente ostico da giocare contro Trickstar Skystriker perché già la Terreno lo mette in una posizione abbastanza di vantaggio visto che impedisce all'avversario di targettarti i mostri FA però FA ha giocato pure molto lento quindi da una parte c'è un aiuto da una parte c'è uno svantaggio si vedrà un po' cosa succederà nei prossimi mesi detto ciò ragazzi io vi saluto vi rimando ai prossimi video del canale e ciao a tutti